buon pomeriggio dolcissime dolcissime vi faccio vedere i miei nuovi acquisti allora ho comprato questa tuta e ve lo farò vedere dopo allora ho preso questo leggings della marca spartan polis donne di sparta questo l'ho pagato 29 euro e 90 poi ho preso quest'altro sempre la stessa marca sempre della sparta polis donne di sparta sempre 29 euro taglia l e taglia e ora vi faccio vedere il pigiamo la tuta della in fiore e così è nero con le maniche lunghe con la zippo con la scritta i densa vedete c'è scritto tuta e mele si è il color nero e questo è il pantalone non mi piace il sotto se devo essere sincera vabbè poi quando quando lo indosserò vi dirò se mi va bene o mi va male questa è la taglia 46 sperando che mi va non si sa mai mi va largo visto che sono dimagrita noi ci vediamo al prossimo video guardate guardate come molto 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 bello di qui e qui sono i miei i miei queste sono le mie scarpe e questi sono i mi acquisti e noi ci vediamo al prossimo video baci baci ciao